Turkish Airlines scommette su Napoli. È stato annunciato oggi in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo un incremento del 50% dei voli diretti tra Napoli e la Turchia che passano da 12 a 18 per settimana. Con un tale incremento, ha dichiarato Arun Bashturk, direttore delle vendite, ci aspettiamo di portare almeno 25.000 turisti in più ogni anno a Napoli. L'impatto di questa novità sull'economia regionale è stimato in oltre 33 milioni di euro. Dal giugno 2011, quando Turkish Airlines ha aperto la rotta su Napoli, oltre un milione di viaggiatori hanno raggiunto la città con questa compagnia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS